Ciao a tutti, oggi apriamo i cassettini 19 e 20 allora 19 questo è leggero leggero deve essere un siero sì questo è un siero, di solito questi sieri sono molto validi allora qui sopra di sicuro non riesco a leggere quindi leggiamo sul cartoncino la marca è Bio Effect ed è un siero, vediamo cosa dice se riesco a capirlo intanto la quantità sarà 5 ml immagino intanto sta facendo buio non so non lo vedo ma credo che come quantità sia circa 10 ml anche questo dà alla pelle una nuova vitalità riduce le linee d'espressione e le rughe bastano 2-4 gocce sulla pelle pulita e asciutta su viso e collo poi mi informerò bene comunque su questi prodotti sicuramente sul sito di Look Fantastico magari ci sono anche più descrizioni insomma anche più informazioni ok e questo era il 19 20 qua questo è interessantissimo questo è un mascara di questa marca qua EECO che è da tempo che vorrei provare e quindi avrò l'occasione di provarlo in questo tubetto non lo voglio aprire subito perché poi mi si secca per niente quindi aspetto il momento in cui lo userò sono 4 ml vediamo cosa dice qui dice scopri delle ciglia trasformate con questa formula nutriente e volumizzante zero sprechi non cade non sbava insomma ciglia volumizzate e sane questo veramente è un mascara che è da tempo che vorrei provare c'è anche sul sito di Sephora sicuramente però non avevo ancora avuto occasione di provarlo quindi bene sono contentissima e anche oggi abbiamo finito vi aspetto al prossimo video in cui apriremo altri due cassettini vi mando un bacio ciao ciao